Nonostante abbiate seguito tutti i consigli di fare bene il telaio, abbiate usato la spazzola giusta con l'ugello giusto in base al vetro idrofilo anziché idrofobo, potrebbe comunque succedere che una volta che il vetro è asciutto rimanga qualche puntino qua e là. Il modo più semplice di togliere questi puntini è un'operazione di rifinitura che va fatta assolutamente quando il vetro è completamente asciutto. Si applica questo attrezzo che ha una superficie in velcro in cima all'asta e sopra questo attrezzo si applicano uno di questi due pad, cioè questi due rettangoli in microfibra. Questo ha la fibra più rasata, questo qua ha la fibra più lunga. Servono proprio a togliere questi piccoli puntini che potrebbero essersi rimasti sul vetro. Per far scorrere meglio il pad diamo giusto una nebulizzata di un prodotto a base alcolica. L'attrezzo è snodato e ci permette quindi di muoverci in tutte le direzioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.